Buongiorno, sono coach Dan Peterson qui con voi su SB Daily ogni giorno con un profilo di un grande giocatore, allenatore, dirigente e oggi personaggio unico, grande giocatore, grande coach Enzo Esposito. Prima parliamo di lui come giocatore qui in Italia, una guardia, un talento, 1,95 m, grandissimi mezzi atletici, veloce, rapido, grande elevazione, grande tiro da tre, grande palleggio resto tiro, grande entrata contro difesa schierata potendo anche schiacciare il traffico. Prima un realizzatore dappertutto ha vinto Scudetto con Caserta, altre finali Scudetto con Caserta, altre finali europee con Caserta, uno che faceva i suoi punti, non poteva marcare due grandi estrosità, grande invenzione, grande uno contro uno, un giocatore davvero eccezionale. Anzi, seconda fase della sua carriera, un anno nell'NBA, uno dei primi due giocatori italiani a giocare nell'NBA, altro Stefano Rusconi. Enzo ha giocato con Toronto Raptors nel 95-96, facendo anche una partita di 18 punti, tanto per dire quanto era bravo lui. Poi è tornato in Italia, a uno, a due, sempre il primo realizzatore, anche giocato in nazionale. Terza fase della sua carriera, che lo sta seguendo adesso, allenatore. Prima è stato terzo allenatore alla Juve Caserta, poi hanno licenziato il primo allenatore, poi è stato promosso il vice e Enzo è stato terzo, dato secondo, licenziato il primo. Enzo è diventato capo allenatore, quasi salvato Caserta, forse il capolavoro della sua carriera. Poi ha fatto altre fermate, a Pistoia, a Sassoli e adesso a Brescia. Lui ha due o tre grandissime cose come coach. Uno, ha rispetto di tutti i giocatori americani che sanno che lui ha giocato nell'NBA e per gli americani questa credibilità è importantissima. Poi, avendo giocato nell'NBA e anche vissuto tanto tempo in America, ha perfezionato l'inglese, ha un inglese molto, ma molto corrente. Ho parlato io con lui in inglese, è come parlare con un americano. Quindi riesce a comunicare con tutti i giocatori straniere con grande facilità. Poi le sue squadre giocano, giocano come giocava lui, sensi complessi, giocando con grande aggressività in attacco. E lui riesce a diventare anche un grande coach. All'inizio, non avrei detto, non per mancare di rispetto, però i giocatori estrosi a fare coach non è una cosa facile. Invece lui ha fatto un cambio notevole di usare estrosità con anche una grande semplicità, anche una grande logica e oggi è un grande allenatore. Qualche volta si poteva anche votare per lui come allenatore dell'anno. Adesso a Brescia. Quindi, amici sportivi, è tutto per oggi. Salutiamo anche il grande Enzo Esposito e anche voi. Ciao, saluti a tutti. Ciao, saluti a tutti.